Per me non cambia niente sul campionato. Meglio per loro vincere, meglio per noi vincere, è vero, ma siamo due squadre che veramente il campionato che arriva subito dopo, il weekend che arriva, non cambia nulla se uno passa o l'altro passa. Per me, non lo sto provando per me. Sulla seconda domanda, ben provato, ma niente di più. Grazie a tutti.